Insomma, dottor Squarozzi, la sua dieta sperimentale è fallita. No, non mi dica che è colpa mia che non ho voluto seguire la dieta a base di c***o di mare. Me ne frego se è il cibo più dimagrante, secondo gli esperti di Sharkbar. Io voglio dimagrire mangiando cose buone e sane. Come vado dalla Simona Vignali che ne capisce di cose naturali? Ciao amici, eccomi qua. Ho la voce un po' bassa ma sto bene, mi raccomando, non preoccupatevi. Alzi la mano chi è stanco di fare rinunce per dimagrire. Sicuramente vedo tante mani alzate e allora oggi ci sono delle chicche imperdibili per voi. Ma intanto, per prima cosa, mettete un bel like a questo video e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. E arrivate fino alla fine del video perché alla fine, giusto, ci sarà una sorpresa eccezionale. Qualche mese fa una mia cliente simpaticissima, Mirella, mi ha detto così. Simona, non ne posso più di andare da uno che mi darà sicuramente l'ennesima lista delle proibizioni. Io mi sento in gabbia, come se fossi allo zoo, ma dentro, come le scimmie quando ti guardano che mangi tu le banane che stai fuori. Abbiamo riso tanto e le ho chiesto se potevo citare questa sua espressione così buffa nei miei video. E Mirella ha detto di sì non solo per citare le scimmie affamate di banane, ma ha detto di sì anche al mio programma per dimagrire in salute e senza dieta. E oggi si gode tutto quello che le piace fuori dalla gabbia con il suo bel fisichetto in superforma. Beata lei, io quando mi proibiscono un cibo sento che ne ho ancora più voglia. Per esempio adesso mi sto mangiando un gelato peccaminoso che proprio non dovrei. E poi ti senti in colpa perché pensi di avere buttato a mare tutti i sacrifici fatti finora, giusto? Sì, il brutto è che i sensi di colpa arrivano prima che finisca il gelato, a metà, e così lo butto via. Insomma, uno spreco, un delitto. Eh già, ma il delitto peggiore è come questo meccanismo ti fa sentire giorno dopo giorno. Molte donne mi confidano che i sensi di colpa per avere sgarrato si trasformano in dubbi su loro stesse. Forse non sono abbastanza decisa? Non so mantenere un impegno preso con me stessa? Ma come proprio io che sono così scrupolosa a casa e al lavoro? Forse ho qualcosa di sbagliato? E vai che entrano in questo vortice di autosvalutazione e si sentono sempre tristi, nervose, incapaci, inconcludenti. L'umore ne risente, così anche le relazioni, famiglia, sul lavoro. E arrivano gli sgarri e addio dieta. Bye bye. Io non le biasimo, anzi, meglio non stare più a dieta. Come fai a punirti ogni giorno, rinunciare a mangiare, contare tutto e pesare tutto? Ti senti inadatta se hai più fame del solito o se per una volta ti concedi una voglia. Una, una sola. Magari riesci anche a dimagrire, ma a che prezzo ha tutta la frustrazione che vivi dentro di te? Non è gratis, credimi. Gli effetti dello stress e della tensione si fanno sentire prima o poi e il corpo a un certo punto ti presenta il conto. Ecco perché molte donne a un certo punto non riescono più a dimagrire nemmeno di un etto, anche seguendo le diete più severe e restrittive che ci sono in giro. È vero, a me succede esattamente così, ma quindi cosa devo fare? Ma intanto rispondi a questa domanda. Vuoi davvero un'alternativa alla dieta? Ma certo, che domanda? Chi non vorrebbe dimagrire senza stare a dieta? Non è così scontato, cara mia. Perché dimagrire senza stare a dieta non vuol dire mangiare quello che ti pare quando vuoi. Affidarsi a un farmaco o a un integratore che promette di bruciare il grasso al posto tuo. O affidarsi solo al fitness che promette di risvegliare il tuo metabolismo e i tuoi ormoni. E adesso non so più cosa fare. Oh, benissimo! Vuol dire che adesso hai la mente libera per ascoltare qualcosa di completamente nuovo. E voi amici? Perché adesso sto per svelare come dimagrire senza dieta, perdere peso definitivamente e trasformare anche la propria vita. Non scherzo, quindi ascoltate bene. Per dimagrire senza dieta bisogna cambiare testa. Vuol dire pensare al dimagrimento in un modo completamente nuovo. Cosa intendo? Dare al corpo i nutrienti di cui ha bisogno, non di più e non di meno, così regola da solo il metabolismo. Gestire stress, ansia, tensione per dire addio a fame nervosa e fame compulsiva. Mangiare in modo soddisfacente e completo, così non ti senti in punizione e non vai a sgarrare a tutte le ore. Equilibrare il corpo con il giusto movimento, il giusto riposo, la meditazione, tutte quelle buone e sane abitudini che ti fanno stare bene ed essere felice. Questa è la testa giusta per il dimagrimento naturale. Ora qualcuno potrebbe chiedermi L'idea mi piace, ma come si fa a fare tutte queste cose nel modo corretto? Per risponderti dovrei fare altri 100 video come minimo ed è un po' lunga. Per questo ho deciso di fare una cosa e questa è la sorpresa che vi ho annunciato all'inizio del video. Farò un video training in diretta, alle 18.30 sarà circa un'oretta che staremo insieme. È un evento online speciale, è un video training esclusivo che non trovate su YouTube, pubblicato, libero, per tutti. Per accedere bisogna registrarsi dal link che trovate in descrizione qui sotto, in questo video training. Rivelo esattamente perché oggi non è più possibile dimagrire con le diete privative. Cioè, uno può anche provarci, ma credetemi, esiste qualcosa di molto meglio. Condivido cosa bisogna fare invece per raggiungere il peso ideale senza stare neanche un giorno a dieta. Racconto anche dei risultati incredibili che ottengono le allieve che seguono il mio metodo di magrire in salute senza dieta. E ti spiego come fare per uscire, saltare fuori dal fai da te e sentirti sempre seguita e mai più abbandonata a te stessa. Vuoi seguire il mio webinar gratis? Ma certo che sì, allora tutto quello che devi fare è cliccare sul link in descrizione qui sotto e iscriverti seguendo le istruzioni. Insomma, se volete sapere come trasformare le informazioni di questo video di oggi in chili e centimetri persi sulla bilancia e nel giro vita, vi aspetto nel mio video training. Perché la cosa più importante è sapere come passare dalla testa della dieta alla testa del dimagrimento naturale. E ve lo spiego io. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Mi ha dato l'occhiolino. Beata lei! Io, io un gelato. Ah!